Uncharted 4 Uncharted 4 è il capitolo più umano, più realistico e credibile della serie. È evidente che Naughty Dog abbia appreso dalla crudezza delle vicende interpersonali di The Last of Us. Nel nostro provato avevamo già svelato in anteprima di come avrebbe avuto la vita di Henry e Avery come sfondo di tutte le vicende. Evidentemente il furto di 400 milioni di dollari tra monete, oro e ricchezze varie non fu gradito da molti ed è proprio quell'incredibile ammontare di denaro che incuriosi di fin da giovani i fratelli Drake. Ciò che di Naughty ancora non avevamo visto è una vita tranquilla con un lavoro normale, lontano da grandi precipizie sparatorie insieme a sua moglie Elena. In una tranquilla giornata di lavoro il nostro ex avventuriero riceve una visita inaspettata. Seppur la storia di fondo funzioni e sia interessante, ciò che è più immemorabile nei vari capitoli di Uncharted sono le scoperte che andremo a fare man mano che proseguiremo con le vicende. L'avventura, come la tradizione della serie, ci porterà in giro per il mondo. È difficile stare fermi con Nathan e Sally e in generale la progressione è quella che conosciamo. Nei precedenti capitoli i luoghi da raggiungere per arrampicarci erano fin troppo evidenti e davanti agli occhi. Bastava premere X a profusione che anche ben dati superavamo queste fasi. In Uncharted 4, Naughty Dog ha voluto che rimanissimo a cervello acceso dall'inizio alla fine. I percorsi da prendere non sono mai troppo banali e sistemati ad un palmo dal naso. Sono stati aggiunti dei nuovi modi per raggiungere un determinato appiglio, innanzitutto il rampino. Altra aggiunta poi è il chioro da arrampicata, nelle superfici di roccia porosa potremo infatti usarlo per crearci un appiglio. L'esplorazione, che in questo capitolo è predominante, è arricchita anche grazie all'utilizzo dei veicoli. Parlando dei combattimenti, oltre alle fasi dove dovremo sparare e basta, ci saranno diverse occasioni dove arriveremo di soppiatto. Uncharted 4 guadagna molto nella soluzione stealth. Attenzione però, i nemici e il loro danno sarà più alto del solito. Bastano pochi colpi per mandare al tappeto Nathan. Qui il gameplay è ripreso da Uncharted 3, con l'indicatore della direzione dei colpi al centro del mirino. Uncharted 4 è semplicemente una maestosità tecnica, non solo per l'impatto visivo generale che è divino, grazie alle tonalità e alle superfici che sono semplicemente fotorealistiche, ma anche per tutte quelle piccolezze che, se notate, fanno la differenza e non fanno altro che far meritare a Naughty Dog un posto nell'Olimpo tra i migliori sviluppatori esistenti. Naughty Dog ha creato il capitolo più umano, più realista e più credibile della serie. Non c'è solo un ladro a caccia dell'ennesima avventura, c'è un uomo che vuole vivere una vita tranquilla insieme a sua moglie. La recitazione, la regia e la messa in scena sono semplicemente incredibili. Le fasi di gameplay, che siano quelle di esplorazione, di sparatutto o stealth, sono qui più profonde e con diverse novità ben gradite. Chi adora l'avventura, i puzzle e le fasi di arrampicata sarà ben contento di sapere che ricoprono gran parte del tempo di gioco. Gli altri saranno al contrario poco contenti di sapere che si spara poco. Penso siano finiti. Ehi, c'è niente in quella fossa?